buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con power coffee è passato un po di tempo dal nostro ultimo appuntamento purtroppo il tempo a disposizione non è sempre così generoso ma spero prossimamente di riuscire a pubblicare questi piccoli video con dei suggerimenti con maggior frequenza oggi parliamo di tipi dati del db2 in particolare vi esporrò un riepilogo delle situazioni in cui ci si può trovare quando si usano le tabelle del db2 per referenziare campi in display o printer file o in programmi rpg la referenziazione è sempre una scelta molto consigliata per definire le variabili oggi cerchiamo di puntare l'attenzione a cosa succede quando si definiscono variabili per riferimento in particolare nelle differenze tra display e programmi rpg prima di addentrarci nell'argomento di oggi vi ricordo e vi consiglio di scaricare dal link sottostante che vedete nella diapositiva il poster dei tipi dati è un mio articolo di qualche tempo fa aggiornato fino alla release 7.5 che espone in un quadro sinottico tutti i vari tipi di definizione dei tipi dati nei diversi linguaggi dds sql rpg clp ed anche il c per ogni tipo dato espone le regole di definizioni le keyword i limiti minime massime avendo in questo modo un confronto immediato nelle varie situazioni dei diversi linguaggi di programmazione quando si parla di definire per riferimento si riferisce nel linguaggio dds alle keyword ref ref field nel linguaggio rpg alle definizioni con declare file quindi dichiarazioni basate su file quindi accesso nativo alla io piuttosto che alla dichiarazione di strutture dati con le keyword like rec o external che significa quindi prendere la definizione da un formato record esterno e importarlo nel programma rpg attenzione la cosa importante su cui ci focalizziamo oggi è il tipo dati risultante non è sempre identico al campo preferenziato e vedremo oggi i dettagli in particolare a cosa bisogna porre maggiore attenzione bisogna porre attenzione in questi casi quando il campo referenziato è un campo carattere a lunghezza variabile quando si ha a che fare con la famiglia dei tipi dati interi small int, integer o big int quando si usa il nuovo tipo dati boolean disponibile da 7.5 o il tipo dati raw identifier e anche se di minore impatto rispetto ai casi precedenti bisogna anche porre un po di attenzione alla differenza tra i campi packet e zoned per quanto siano entrambi dei campi numerici però sono di fatto due tipi dati diversi e la particolarità a cui bisogna porre maggiore attenzione quando questi campi che si definiscono referenziati vengono poi utilizzati magari nel passaggio parametri in particolare magari un passaggio parametri definito con la prototipazione dove bisogna stare molto attenti perché perché un campo definito in un prototipo come campo zoned è diverso da un campo packet a tutti gli effetti e quindi potrei avere delle difficoltà poi a passare i parametri in maniera corretta di quest per riassumere sono le situazioni più tipiche in cui potrei avere delle differenze tra il campo originale presente nella tabella del db2 e il risultato della variabile referenziale in questo poster trovate il dettaglio di tutti i casi questo poster lo potete sempre scaricare dall'articolo citato all'inizio di questa presentazione l'articolo ce n'è di tutti insieme al poster dei dati potete scaricare anche questo ulteriore aggiunto con il confronto tra il tipo dati di partenza e il risultato che si ottiene quando lo si referenzia le varie situazioni quindi nelle colonne evidenziate in verde si parla di programmi rpg la prima colonna il risultato che si ottiene eseguendo un declare file nella seconda colonna il risultato con una declare di una struttura dati nelle colonne arancioni il risultato per i display o printer file e poi risultato conseguente cioè quando definisco quel display o printer file in un programma rpg con la declare file il risultato che si ottiene di conseguenza oppure il risultato che si ottiene dichiarando il formato record con la keyword like rate in una struttura dati dentro un programma rpg in questo poster sono evidenziate con lo sfondo rosino le situazioni in cui ho un'esatta corrispondenza tra il tipo dati originale e la variabile risultante invece negli altri casi con lo sfondo bianco ci sono delle differenze più o meno significative l'importante è essere consci che esistono queste differenze per poter poi sviluppare il programma nella maniera corretta come vedete ovvio che i campi a lunghezza variabile nel momento in cui vengono definiti in un display file non potranno essere a lunghezza variabile vengono tradotti in campi char e questo può essere sicuramente intuitivo un po di attenzione va posta al tipo dati boolean nuovo probabilmente non ancora molto usato perché è stato pubblicato recentemente ha in effetti dei comportamenti nei display e printer file un po curiosi soprattutto nel display file la referenziazione produce un campo di tipo data che lascia un po per pessi probabilmente potrebbe essere che se si tratti di una revisione che verrà rilasciata con qualche successiva pdf dbm ma veniamo ai casi magari più frequenti i dati integer vedete che all'interno di un programma rpg quando definisco il file con the clear file diventano campi packet e attenzione è riportato nelle note all'utilizzo della keyword nelle specifiche di controllo h che condizionano il modo in cui vengono appunto tradotti i campi integer all'interno delle rpg nell'articolo trovate poi il riferimento preciso alla keyword di questo parlando invece ponete attenzione che nei display file questi campi diventano di tipo zoned perché qualsiasi campo numerico in un display o printer file viene dichiarato come zoned però nel momento in cui dichiaro questo file video in un programma rpg nella specifica f dclf il campo a video diventa definito la sua variabile corrispondente un programma rpg diventa packet perché in generale qualsiasi the clear file fa in modo che il campo numerico all'interno delle rpg sia packet però questo comportamento è diverso se invece io lo stesso file non lo dichiaro con la specifica f ma lo dichiaro partendo dal formato record come una struttura dati con la keyword esterna o like rec in quel caso la corrispondenza del tipo dati vedete che rimane zoned perché partito dal display file zoned ha mantenuto la stessa tipologia dati idem nel caso delle rpg dichiarando una struttura dati basata su dei campi di tipo integer ottengo effettivamente un campo integra se guardiamo ai campi packet e zoned quindi il dash in sql o il num ottengo all'interno della declare file o declare ds di un packet sempre un packet attenzione partendo da un zoned dichiarato con la declare file diventa un campo packet quindi anche queste piccole differenze se poi utilizzo questo campo nel passaggio parametri dove mi aspetto che magari il campo sia zoned perché l'ho referenziato un campo di una tabella zoned in realtà sto cercando di passare una variabile è definita come campo packet e quindi potrei avere delle non corrispondenze nei prototipi quindi ponete attenzione ai campi zoned e packet anche nella conseguenza sui display file che in ogni caso nel display file diventa sempre zoned quando si fa la declare file del display o printer file diventa packet invece con una struttura dati rimane la definizione originale presente nel video quindi zoned in entrambi i casi quindi con questo specchietto spero che possa tornarvi utile per avere sotto mano sempre tutta la situazione dei risultati che potete ottenere partendo dalla referenzazione delle tabelle del db2 e attenzione che definire delle variabili partendo dalla declare file o della declare data structure può portare a risultati leggermente diversi fino a qua abbiamo preso atto di cosa succede con la referenziazione è molto importante avere ben chiaro questi comportamenti concludendo quali suggerimenti vi posso proporre ovviamente questi suggerimenti sono orientati a uno sviluppo di applicazioni scritte in rpg 4 dove prediligo l'accesso al dato tramite sql e non rla quindi di sicuro non compariranno le declare file ma tendenzialmente ci saranno delle declare di strutture dati per definire l'output delle istruzioni sql di fetch o di select inoltre il consiglio è comunque di sfruttare le strutture dati per la io anche per interagire con i file video file printer se volete riprendere questo argomento vi consiglio di consultare power coffee numero 3 del 2020 che trovate citato questa slide dove spiego come sia oltremodo vantaggioso interagire tra il programma rpg e il display o printer file non muovendo con delle operazioni di evale i singoli campi dalla tabella al display e viceversa ma muovendo l'intero record utilizzando le strutture dati quindi definisco nel file video nel file interi campi che hanno lo stesso nome della tabella e poi utilizzando le strutture dati e il codice operativo eval core riempio con una sola istruzione tutti i campi che corrispondono tra la tabella originale e il display file e viceversa questo fa risparmiare parecchie righe di codice e sicuramente avete una maggiore sicurezza di avere una corrispondenza esatta tra i tipi dati del video e del vostro programma rpg un altro consiglio è quello di predisporre già all'origine una o più viste sql che eseguono già al momento della definizione la conversione nel tipo dati più opportuno per essere gestito nel file video o nel file printer così come lo desiderate visualizzare quindi se ho dei campi var char e so che questa vista la utilizzerò per gestire la io verso un file video farò già la conversione nel tipo dati char alla lunghezza desiderata che voglio mostrare idem per il campo boolean piuttosto se voglio operare con dei campi data o campi surrogati di data quindi campi numerici che devono essere in realtà che contengono delle date conviene già effettuare la conversione nella vista sql in modo da avere già il dato pronto per essere esposto nel vostro video o nel vostro file di stampa e l'obiettivo deve essere quello di utilizzare nel display o printer file la rafferenzazione a campi con tipo dati che produca il medesimo risultato anche quando viene referenziato come struttura adatta nel programma rpg per avere il minor differenze possibile e anche le variabili interne al programma rpg consiglio di prediligere la rafferenzazione ai campi delle ds esterne derivanti della tabella quindi cercare di evitare la declare file anche se utilizzata con la keyword template solo per avere il riferimento ma piuttosto della declare file utilizzare la declare trattino ds perché abbiamo visto che consente di avere una migliore corrispondenza col tipo dati originale per oggi è tutto spero che possiate trovare utile questo riepilogo sulla riferenziazione molto probabilmente concetti che vi sono ben notti dall'esperienza quotidiana con la programmazione ma ci tenevo a schematizzare in modo sintetico e riassuntivo in un quadro da tenere sempre sotto mano per evidenziare le differenze importanti nella riferenziazione dei tipi dati con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi do al prossimo appuntamento spero a breve con un altro power coffee in cui ho intenzione di parlarvi di ciclo rpg e sql non preoccupatevi non voglio parlare di una cosa tra virgolette antica ma vedremo come realizzare l'equivalente del ciclo rpg con dell'istruzione sql a presto e buona settimana